Da 30 anni il CAF Si prende cura dei bambini maltrattati E oggi possiamo sostenerlo concretamente Dal 19 settembre al 9 ottobre Con un sms al 45504 Da Team Vodafone Wind 3 Poste mobile e Copo Voce Possiamo donare 2 euro E chiamando il 45504 Da rete fissa Telecom Italia, Infostrada, Fastweb e Tele2 Possiamo donare da 2 a 5 euro Al CAF Ai bambini Grazie 45504 CAF Bambini si diventa